Sì, sono tre modalità. Questa è la modalità che ha scelto la Lazio. Ha scelto la Lazio per un suo allenatore? Io voglio parlare con la Stampe. Ha scelto la Lazio perché le partite che si fanno in casa si fanno per un posto allenatore. In conseguenza quando è la partita della Roma, verrà fatta. Ok, ok, parlo con lui. Verrà fatta anche per la stessa modalità. Verrà fatta anche per le cazzate. Sì, capito, ma non ce la deve prendere con me. Cazzo, io voglio parlare alla Stampe, tu non le lascio parlare? No, io le lascio parlare, soltanto che la domanda la devo fare il Gliadano e le faremo. Cazzo, per lui non è giornalista? Sì, però questa è una modalità che è stata fatta. Ah, mette la modalità nel muro, cazzo. E' così la modalità, non c'è la modalità. Volevo ribadire con questo video la vergogna di Giuseppe Mourinho e l'attacco che ha fatto all'arbitro dopo la partita di finale della finale di Europa League contro il Siviglia. Attacco che poi ha portato i tifosi della Roma, quelli un pochettino più esagitati, quelli un pochettino più stupidi, tra virgolette, a aggredire l'arbitro che per caso hanno incontrato poi all'aeroporto. Benvenuti a tutti, in questo nuovo video parleremo anche di Dusan Vraovic che molto probabilmente entrerà a far parte di un mercato in uscita da parte della Juventus e c'è una possibilità che manè venga alla Juve. Di questo si sta parlando, di questo parleremo, prendiamolo per buono anche se sappiamo che è presto per parlare di queste cose. Ho voluto iniziare prima con il video di Giuseppe Mourinho ma non è attuale, non è quello di adesso, quello di adesso l'avete già visto tutti. Molto probabilmente questo vi è passato davanti agli occhi e non ve lo ricordate più perché Giuseppe Mourinho questo è, Giuseppe Mourinho è un istigatore e non si assume mai le proprie responsabilità. Ogni volta che vince il merito è tutto suo, ogni volta che perde succede una cosa del genere. Diciamo che in Europa è abituato a giocare poco ultimamente, soprattutto in Europa è abituato Giuseppe Mourinho a subire pochissimi torti o episodi a sfavore da parte dell'arbitro del VAR e lo vediamo da come reagisce. Tutto differente invece in Italia dove gli apparecchiano la strada come se niente fosse. Come ricordiamo tutti nella partita contro la Juventus che doveva essere espulso per due giornate ma fece il ricorso e guarda caso venne accettato il ricorso e si trovò sulla panchina per la partita contro la Juventus. Un atteggiamento a dir poco vergognoso che anche i tifosi della Roma stanno in qualche modo contestando perché non fa fare una bella figura né alla società e nemmeno ai tifosi. Sappiamo i tifosi della Roma che sono comunque molto, diciamo, calorosi però non fino a questo punto. Se sono arrivati fino a lì alcuni di queste teste calde è perché sono stati stigati da qualcuno, perché vengono continuamente stigati all'odio da chi invece dovrebbe dare l'esempio e da chi invece dovrebbe far passare un messaggio di pace nel calcio. Pace e divertimento nel calcio. Il calcio è uno sport, lo sport serve per unire e divertirsi non per ammazzarsi a colpi di sedia perché, da quanto ho sentito dire, gli hanno lanciato pure una sedia dietro all'arbitro in aeroporto. Non so se è vero, queste sono le notizie che girano. Comunque è vergognoso quello che sta succedendo. Giuseppe Mourinho che potrebbe anche rischiare una squalifica da parte della UEFA. Teoricamente potrebbe, perché è sempre un tesserato di una società e risponde delle sue responsabilità, visto che comunque quando è successo quello che è successo, lì c'erano presenti quasi tutti i dirigenti della Roma. Quindi tu stai rappresentando ancora la società. Non lo hai visto una settimana dopo per strada o in spiaggia e l'hai preso a parolacce subito dopo. Quindi ci potrebbe e secondo me ci dovrebbe essere anche un intervento da parte della UEFA perché questi comportamenti devono essere stigmatizzati, devono essere fermati immediatamente perché poi sfociano all'odio e la violenza viene appresso all'odio perché l'odio sportivo non esiste. Esiste la rivalità, ma l'odio sportivo non esiste. L'odio porta sempre alla violenza e lo abbiamo visto in molti, molti casi ultimamente. Questo ce ne dispiace veramente tanto. Detto questo, passiamo alla notizia che più ci interessa dopo la pagliacciata di Giuseppe Mourinho e arriva la notizia un pochettino più calda, più croccante, più friariella da parte della Juventus che potrebbe mettere sul tavolo delle trattative Dusan Vlaovic che ultimamente non è assolutamente contento di rimanere alla Juventus. Dusan Vlaovic che è al cospetto dei bianconeri da un anno e mezzo e da un anno e mezzo, povero ragazzo, si è praticamente perso. A parte i primi mesi in cui ha dimostrato di essere quello che effettivamente è stato alla Fiorentina e infatti è per questo che il Bayern Monaco lo sta cercando ma parleremo adesso della trattativa che teoricamente si potrebbe aprire con il Bayern Monaco ma che ancora non è niente di assodato, niente di sicuro. Però ci sono già delle voci che girano per quanto riguarda un possibile addio da parte di Dusan Vlaovic. Vi ripeto, Dusan Vlaovic che nei primi sei mesi è riuscito a dimostrare quello che era ma poi Allegri con il suo lavoro è riuscito a riportare Vlaovic ai livelli di, che ne so, miei che non gioco a caccio da una vita quindi lo ha praticamente distrutto ma non solo lui. Nonostante ciò Dusan ha delle offerte e una tra le offerte più interessanti arriva dal Bayern Monaco che dopo aver perso adesso mi scappa il nome dopo aver perso l'attaccante comunque non è riuscito a e pensate che vivo pure in Germania e me lo sono dimenticato. Dopo aver perso l'attaccante che è andato al Barcellona mettetemelo voi qua sotto nei commenti se non mi viene prima della fine del video cerca qualcuno che lo possa sostituire e vede in Dusan Vlaovic una prima punta degna di poterlo sostituire con le sue giocate Dusan comunque in una squadra che ha un gioco che ha un'identità che comunque propone attacco Dusan è pericolosissimo. L'offerta la prima offerta che sarebbe arrivata da parte del Bayern Monaco è di 60 milioni di euro offerta che la Juventus ha rimandato al mettente perché è reputata troppo bassa. La Juve da questo calciatore vorrebbe tirare fuori 90 milioni di euro o almeno 80 milioni di euro sappiamo che comunque in questo momento tutti i calciatori della Juventus si sono molto ma molto svalutati e quindi è difficile andare a tirare fuori quella cifra lì. Però il Bayern Monaco sembrerebbe aver messo sul piatto della bilancia anche una contro offerta un altro calciatore che a noi farebbe molto molto gol. e si parla di Mané Mané che comunque veloce sulla fascia è un attaccante è un giocatore diciamo d'attacco che di centrocampo attacco diciamo da quelle zone lì può dare una mano perché nella Juventus di Allegri io lo vedo me lo immagino con Allegri e non gli riuscirei a trovare una posizione perché Allegri lo metterebbe a fare terzino comunque là davanti Mané potrebbe dare una grossa mano alla Juve sicuro io non vorrei togliermi Vlaovic piuttosto vorrei togliermi Allegri e vedere Vlaovic con un allenatore che esprime calcio che cosa è in grado di fare però queste sono le notizie al momento che ci arrivano quindi la Juventus sarebbe in al tavolo delle trattative anche se ancora non hanno imbassito nulla però si teorizza una trattativa tra Bayer Monaco e la Juventus appunto per Dusan Vlaovic ditemi voi qua sotto che cosa ne pensate se può essere fattibile o una cosa del genere se secondo voi invece il Bayer Monaco non è assolutamente interessato a Vlaovic non mi viene proprio il nome dell'attaccante ma ragazzi è fuori di testa non mi viene proprio in mente comunque scrivetemelo voi qua sotto nei commenti chi era l'attaccante del Bayer Monaco che dovrebbe andare a sostituire poi eventualmente Dusan Vlaovic adesso gioca nel Barcellona vi do anche questo aiuto però non mi viene il nome quindi non ci posso fare niente e niente questa era la notizia prendiamola sempre con le pinze vi ripeto il calcio mercato è chiuso queste sono tutte indiscrezioni però sappiamo che Dusan Vlaovic ha la Juventus in questo momento non è per niente contento e vorrebbe andarsene via come prendereste lo scambio con Manet ditemi qua sotto nei commenti condividete questo video mettete un bel like io vi saluto ciao a io